Dalle mie braccia l'avevo io così, la bambina si è messa a dire voglio mamma, voglio mamma, mi teneva per un braccio, allora mi hanno tirato a me da un braccio dall'altra parte e mi hanno portato fuori dalla stanza e lei gli hanno fatto vedere i cartoni animati perché il sostituto della mamma è solo i cartoni animati.